Femminicidio a Osimo, 41enne massacrata di botte dal marito Alluvione, consiglio regionale al lavoro per la ripartenza Miralfiore, Belloni difende gli interventi dalle accuse ambientaliste Mini eolico contro il caro energia, l'esperimento di un imprenditore Banca di Pesaro, accordo a sostegno alla lotta all'infarto Buonasera, benvenuti al nostro telegiornale Oggi è martedì 11 ottobre e in questo primo servizio andiamo fuori la provincia di Pesaro Urbino Ed esattamente ad Osimo perché c'è stato un femminicidio questa mattina nella frazione di Padiglione Ilaria Maiorani, 41 anni, mamma di due bambine, sarebbe stata infatti massacrata di botte dal marito Al termine di un litigio E' quanto emerge dalle prime ricostruzioni dei carabinieri che hanno arrestato il compagno di origini marocchine El Gedassi Tariq, il quale era agli arresti domiciliari per reati legati allo spazio di droga Marito che era ancora sul luogo del delitto quando le forze dell'ordine sono arrivate nell'abitazione Allertate da un parente della vittima L'uomo si è giustificato dicendo che la donna avrebbe battuto la testa durante una caduta Ma la prima ispezione cadaverica ha rilevato ferite mortali riconducibili a percosse piuttosto che ad una caduta Si è svolto oggi il Consiglio regionale monotematico sull'alluvione e sul supporto alle popolazioni colpite da questa catastrofe ambientale Allora vediamo le proposte e le linee d'azione emerse in questo primo servizio Da Cantiano a Frontone, da Barbara a Sassoferrato ci sono territori pesaresi e anconetani alluvionati che invocano urgentemente aiuti per ricostruire infrastrutture e ristori per ripristinare attività lavorative e produttive Temi tanto complessi quanto impellenti che questa mattina sono finiti sul tavolo di un Consiglio regionale monotematico sull'alluvione convocato dal Presidente Acquaroli Consiglieri che in queste tre settimane post alluvione hanno raccolto le proposte di un territorio che chiede risposte Alcune può darle alla Regione, altre la stessa Regione dovrà sollicitarle al nuovo Governo nazionale in via di insediamento Ci sono due questioni che bisogna affrontare con assoluta celerità quindi la liquidità per le imprese e le famiglie che hanno perso tutto, ce ne sono purtroppo tantissime e soprattutto per quei territori del nostro introterra in cui le attività già fanno fatica abitualmente a sopravvivere in questo momento potrebbe essere l'unica soluzione per proseguire con l'ampliamento di queste attività che sono anche un presidio sociale molto importante L'altra questione riguarda le infrastrutture, tantissime sono state danneggiate, lesionate alcuni nostri posti turistici importanti non sono più neanche raggiungibili quindi assolutamente serve un intervento urgente da parte del Governo Già alcuni provvedimenti sono stati presi dalla Regione in particolar modo verso dei finanziamenti e dei volati nei confronti delle aziende che devono ripartire ma tanto ancora deve essere fatto e la partita chiaramente sarà in mano al Governo al nuovo Governo perché qui servono risorse significative si parla addirittura di oltre 3 miliardi di Euro che dovranno essere messi a disposizione per far fronte a questa emergenza Per quanto riguarda gli aiuti immediati quello che abbiamo potuto mettere in campo con i soldi della protezione civile sono i 5 mila Euro per le famiglie e 20 mila Euro per le imprese subito in seguito all'intervento dovrà tener conto del censimento dei danni che è sempre molto complesso e dell'impatto sull'economia del territorio Una volta per tutte non solo a parole bisogna mettere mano a Summe che ovviamente nei bilanci regionali come dello Stato e dei Comuni incidono in maniera massacrante perché significa in qualche modo rinunciare a tante altre scelte in termini di obiettivi ma sono fondi necessari per mettere in sicurezza il nostro territorio di farlo come si faceva in passato oggi con gli strumenti adeguati per una pulizia costante dei fossi, canali, dei fiumi dei terreni privati della possibilità da parte degli enti pubblici di fare manutenzioni per quanto riguarda la regimazione delle acque le modalità di costruzione insomma un intervento generale che tutti conoscono bene ma che ancora non ha una concretizzazione diciamo su area vasta, su area regionale che deve diventare sistema, cioè deve avvenire sempre per fare questo c'è necessità di costanti impieghi di denaro pubblico che devono essere tolte a altre, non più priorità ma obiettivi secondari e questa scelta che sarà dolorosa e invece benefica per quanto riguarda la tutela del territorio e quindi delle comunità tutte che insistono nel nostro territorio e quello delle Marche Noi abbiamo proposto una commissione speciale perché con questi eventi che sono definiti millenari ma che si verificano nella valle del Mise del Nevola in otto anni con la stessa intensità va ripensato l'assetto complessivo del territorio e ripensare anche le modalità di intervento i progetti da rimettere in campo e verificare tutte le operazioni tenendo conto che sono episodi così devastanti che vanno contrastati con un'efficacia e con una determinazione diversa Aiuti ai territori alluvionati anche dalla provincia Oggi il presidente Giuseppe Paolini ha firmato il decreto che stabilisce la sospensione del pagamento del canone unico patrimoniale di concessione ed a esposizione pubblicitaria relativo al 2022 per i territori di Cantiano, Cagli, Frontone, Pergola e Serra Sant'Abbondio che comunichino di avere subito danni alle proprietà che abbiano reso impossibile l'utilizzo del suolo pubblico oggetto di autorizzazione o concessione Le proloco di Pesaro Urbino unite per Cantiano è invece la campagna fondi lanciata dall'UMPLI della provincia di Pesaro Urbino che raccoglie donazioni a sostegno delle numerose imprese economiche danneggiate dalla devastante alluvione una raccolta a fondi che parte all'indomani della visita nei territori pesaresi alluvionati del presidente nazionale delle proloco Antonio Laspina Il comune di Fano oggi ha presentato Con il cuore nel fango la maratona concerto di beneficenza per le comunità segnate dall'alluvione Domenica 23 ottobre alla Rocca Malatestiana si esibiranno più di 50 tra gruppi musicali e artisti che promuoveranno la raccolta fondi a favore dei comuni colpiti dalle 14 alle 24 una 10 ore non stop caratterizzata da arte, musica e solidarietà il biglietto d'ingresso è di 10 euro e sarà devoluto in beneficenza Ed ora cambiamo argomento perché nel telegiornale di ieri sera vi abbiamo mostrato la raccolta di firme della rete di associazioni ambientaliste La Voce del Miralfiore che reclama una gestione diversa del Parco Miralfiore Nel Mirino una serie di interventi che oggi l'assessore all'operatività Enzo Belloni ha voluto difendere e argomentare Vediamo Alle proteste di domenica mattina da parte di alcune associazioni ambientaliste è arrivata puntuale la risposta del Comune di Pesaro Allo slogan Ora basta il Parco Miralfiore esige rispetto l'assessore all'operatività Enzo Belloni ha voluto far chiarezza sugli interventi che finora sono stati compiuti nell'area verde di Pesaro e quelli che verranno portati a termine in futuro È un parco urbano non è una foresta protetta innanzitutto e chi amministra la città si deve prendere delle responsabilità in questo momento la priorità è la sicurezza stiamo facendo un grande lavoro assieme a tutte le forze dell'ordine e anche questa mattina vedete che sono impegnate qui con i cani quindi la prima cosa che noi ci preme è mettere in sicurezza questo luogo un luogo dove non vogliamo nasconderci dietro un dito che è occupato in maniera abusiva da certe persone una piccola parte di questo parco noi dobbiamo lavorare per renderlo tutto fruibile alla comunità volevo sottolineare il fatto che noi stiamo ripulendo il sottobosco abbiamo tutte le autorizzazioni del caso non facciamo niente di legale o di legittimo magari potrà essere poco opportuno per qualcuno ma abbiamo avuto la visita dei carabinieri forestali più volte quindi questo manifesta il fatto che oggettivamente stiamo compiendo atti legittimi la manutenzione del parco Miralfiore è un intervento che l'amministrazione comunale svolge ormai da anni dopodiché c'è stata la pandemia e quindi le operazioni sono state interrotte ma poi sono riprese successivamente con la pulizia della zona vicina alla ferrovia già una polemica c'è stata quando abbiamo pulito il lato a ridosso della ferrovia che era mal frequentato abbiamo ripulito il sottobosco dopo qualche mese è cresciuto tutto di nuovo l'abbiamo ripulito un'altra volta quindi stiamo facendo delle azioni legittime che magari qualcuno potrebbe anche non condividere ma questo non è che la pensiamo tutti allo stesso modo la divergenza di idee e la visione diversa da parte degli intenti è un aspetto accettabile secondo Belloni ma che considera per certi versi non veritiero quando alcuni componenti di queste associazioni vogliono sfruttare a per il suo solamente la visibilità offerta io rispetto l'opinione di tutti ovviamente specialmente chi lo fa con il cuore perché io penso che come tutte le situazioni c'è sempre chi vuole strumentalizzare il momento e il contesto magari che ne so tra qualche mese vedremo qualcuno di più facinorosi che si ritaglierà un ruolo in qualche consiglio di amministrazione da qualche parte non lo so ripeto io credo nella buona fede di alcuni fazzi per primo se vogliamo fare i nomi visto che qualcuno ha fatto i nomi però bisogna in qualche modo capire che questo parco è di tutti la nostra operazione è un'operazione che non è gratuita quindi non ci divertiamo né a fare i rispetti né a spendere i soldi ci divertiamo insomma vogliamo far sì che questo sia liberato in qualche modo una liberazione del parco che il comune di Pesaro sta portando avanti in sinergia con le forze dell'ordine una collaborazione che sta portando già dei buoni risultati ma che è sotto l'occhio di tutti che per poter contrastare ulteriormente la criminalità che da tempo vive nel parco occorre un lavoro attento e costante nel frattempo l'amministrazione cerca di rendere vivibile e frequentata l'area verde più importante della città noi come amministrazione comunale cerchiamo di portare nel parco quanti più eventi possibili perché gli eventi sono quelli che fanno la differenza l'abbiamo fatto d'estate e continueremo a farlo finché il tempo ce lo consiederà non a caso domenica facciamo il nostro mercatino per la prima edizione un mercatino di scambio per i bambini che poi vorremmo ripetere tutti i mesi nel progetto che vede impegnato il comune di Pesaro nella manutenzione del Miralfiore sarà coinvolta anche l'esperienza e la conoscenza in materia dell'istituto agrario Cecchi ci siamo attivati anche con l'istituto Cecchi quindi l'istituto agrario cittadino per riuscire a condividere un progetto abbiamo fatto un sopralluogo con il dirigente abbiamo fatto un sopralluogo con gli insegnanti ieri è venuto qua anche il funzionario della regione che autorizza gli interventi sul parco e devo dire che non c'è stato rilevato alcun che quindi continuiamo nel nostro lavoro siamo disposti a chiacchierare con tutti però senza pregiudizi né da una parte né dall'altra Impianti mini e olici per contrastare il caro energia è questo l'esperimento che da pochi giorni ha deciso di intraprendere un noto imprenditore pesarese vediamo siamo in pieno periodo di caro bollette siamo entrati nel trimestre di ulteriori rincari da ottobre a dicembre tanta la preoccupazione ma c'è chi si ingegna anche con soluzioni innovative è il caso di Fulvio Urbinelli noto imprenditore pesarese che qui nella sua abitazione sulle colline gradarese in strada delle babucce ha installato proprio in questi giorni un nuovo impianto un impianto mini eolico si chiama così che comunque dà una prospettiva sia ecologica che di risparmio economico sì più che altro anche morale perché qui non si sa come andrà a finire se il metano ci sarà non ci sarà però intanto io con questi mini eolici faccio una isola energetica che posso produrre la corrente per me e risparmiare anche nel metano perché posso fare a meno del metano con otto mini eolici produco la media di 4 kilowatt all'ora dalle prove fatte noi dovremmo produrre circa 40-50 kilowatt al giorno di corrente ne consumo 30 quindi vado tranquillo naturalmente immagino ci sia un costo di installazione di partenza che comunque è un investimento il costo è relativo perché secondo me i soldi servono quando servono da spendere perché i soldi in banca non riscaldano però c'è anche il fatto che mi ha dato una bolletta di 1138 euro luglio-agosto cioè per 1000 kilowatt di corrente è assurdo io in poco tempo ammortizzo la spesa da qualche anno il clima è cambiato quindi il vento è sempre più in movimento di 10 anni fa io ho avuto questa idea logicalmente di prendere questi mini-eolici certo è un esperimento ma comunque siamo sicuri che funziona perché la produzione è quella le batterie sono l'accumulo l'inverter trasforma la corrente quindi io non ho problemi non ho dubbi che non ci sia il risultato noi poi abbiamo un grosso vantaggio che il riscaldamento come già da un anno e mezzo o due che lo facciamo al barastra lo facciamo con i quadri con i quadri a infrarosso è ultravioletto quindi io anche il riscaldamento in casa metto un quadro in ogni stanza e ho risolto il problema per il riscaldamento ma non solo per il riscaldamento ma per la salute perché io non ho messo uno all'inverno scorso i miei figli non hanno avuto né tosse né raffreddore né mal di gola niente nessun tipo di influenza e questo è molto importante più importante la salute dei soldi penso e dunque una soluzione ecologica economica come vediamo anche facilmente maneggevole e anche semplice da installare Urbinelli l'ha di fatto installata in autonomia ed è un qualcosa che lei consiglia soprattutto a chi abita in collina sì io consiglio che chi ha la casa in collina dove c'è basta che tiene un po' un po' di vento non sai che serve grandi cose certo che nel condominio è più difficile però è una casa singola in campagna periferia lo consiglio perché avrete la corrente a casa con poco a pesaro il supermercato conad in via del novecento verrà ampliato di due piani per un totale di 10 metri d'altezza aggiuntivi un ok all'ampliamento che è arrivato dal consiglio comunale di ieri che ha approvato con 26 voti favorevoli e uno contrario la variante al prg sull'immobile si tratta di un ampliamento che non aumenterà la capacità commerciale dell'esercizio ma risponderà alle esigenze di deposito e magazzino richieste da Conad e passando ad un altro supermercato lo scorso mese ci siamo invece occupati dello sciopero dei dipendenti dell'ex Simpli di Osteria Nuova che reclamavano diverse mensilità non corrisposte dopo il cambio di proprietà della struttura diventata Store 13 una situazione di incertezza lavorativa sulla quale si è mobilitata la consigliera regionale Marta Ruggeri organizzando un incontro sindacale fra le parti coinvolte il prossimo lunedì un importante accordo nel nome della salute pubblica è stato suggellato questo pomeriggio fra la banca di Pesaro e la fondazione lotta contro l'infarto i dettagli in questo servizio di Edoardo Orazzi avere un territorio abitato da cittadini in salute è questo lo scopo alla base dell'accordo siglato rafforzato oggi tra banca di Pesaro e fondazione per la lotta contro l'infarto un aiuto economico importante che permetterà alla fondazione con sede a Pesaro in via Toscana di riaprire due ambulatori precedentemente chiusi a causa dell'assenza di finanziamenti un aiuto che oggi si concretizza ma che in passato è venuto meno quando la regione Marche che ha finanziato per sei anni la fondazione senza chiare motivazioni dal 2016 sta declinando l'invito in 32 anni di storia da quel 31 marzo 1990 la fondazione ha visitato circa 50.000 persone sollecitando i cittadini della nostra provincia affinché si rendano coscienti dell'importanza di conoscere il proprio profilo di rischio cardiovascolare le arterie che partono dal cuore con un calibro di circa un diametro di circa 3 centimetri arrivano all'estremità tutti i nostri organi con un calibro di 3-4 millesimi di millimetro però queste dimensioni sono sufficienti a garantire il sangue sono sufficienti finché restano sani quando incominciano ad ammalarsi vedi atherosclerosi cioè patologia degenerativa che comporta l'occlusione dei vasi dapprima i vasi più piccoli terminali e poi i vasi più grandi che arrivano loro ad avere poi dopo l'infarto al cuore arrivano ad avere l'ictus arrivano ad avere i fatti acuti ai vari organi gli organi più importanti sono il cervello il cuore i reni che sentono questa mancanza di sangue e non funzionano più bene questa è la cosa che noi come fondazione vogliamo in qualche misura contrastare e diciamo avvisare e cercare di convincere le persone che se vogliono vivere in salute devono mantenere sani queste arterie il 90% di questa patologia è evitabile evitabile basterebbe saperlo e realizzare quello che è necessario per evitarlo la città di Pesaro se sta bene e se la banca lavora bene ed aiuta questa città con queste associazioni che si rivolgono al cittadino direttamente facciamo il nostro dovere diamo questo aiuto per far sì che questa associazione possa continuare la propria attività era arrivata a un punto in cui questa associazione rischiava la chiusura noi sono tantissimi anni che supportiamo diciamo a livello economico il nostro dovere è solo questo di essere a livello economico di supportarla abbiamo fatto il progetto sulle scuole l'abbiamo sostenuto anche in momenti difficili in cui altre banche si erano chiamate fuori e quindi noi abbiamo integrato il nostro contributo sostenendo l'intero progetto lo abbiamo fatto in passato ma parliamo già di diversi anni fa acquistando del materiale dei macchinari specifici per l'attività degli ambulatori oggi invece diamo un sostegno economico importante molto importante per la nostra banca far sì che questi ambulatori possano finalmente riaprire con una lista d'attesa importante e di conseguenza per far sì che questa associazione possa svolgere la propria attività a vantaggio dei cittadini peseresi quello che è importante di allineare è che in questi anni loro è vero che non sono stati tra virgolette chiuse anche per contingenze situazioni diverse anche sanitarie complicate però hanno continuato a fare anche attività sulle scuole un'attività primaria importante per cercare di trovare delle soluzioni o anticipare dei problemi che purtroppo ci riguardano un po' tutti condizionati dal mangiare dalla vita e quant'altro il GAD compie tre quarti di secolo dal 17 ottobre si alza infatti il sipario su questa 75esima edizione del Festival Nazionale d'Arte Drammatiche allora in questo prossimo servizio vediamo il programma tre quarti di secolo per il Festival GAD arrivato alla sua 75esima edizione il Festival Nazionale d'Arte Drammatica alzerà il sipario del Teatro Sperimentale il 17 ottobre per poi riabbassarsi il 31 dello stesso mese 75esima edizione un programma molto ricco qualche settimana fa abbiamo avuto modo di annunciare gli otto spettacoli in concorso oggi annunciamo il resto del programma come da tradizione completiamo il programma del Festival con altre iniziative in particolare quest'anno abbiamo quattro spettacoli fuori concorso due nel contenitore che chiamiamo GAD Festival Ragazzi il nostro Festival si rivolge tradizionalmente ai giovani e ai giovanissimi ma in particolare a una sezione a loro dedicati in maniera speciale con spettacoli mattutini quest'anno proponiamo di Roberto Mercadini tratto dall'Orlando Furioso uno spettacolo un monologo di questo straordinario attore che abbiamo il piacere di aver ospitato noi per la prima volta in questo territorio e che ora veramente ha un successo in tutta Italia e Cattivi Bambini una proposta molto originale di questo gruppo di musicisti narratori che raccontano le storie tradizionali rivisitate in chiave moderna le storie sono non solo musicate dal vivo ma anche illustrate direttamente sul palcoscenico restando fra la proposta del fuoriconcorso siamo molto contenti di ospitare uno spettacolo che rientra nelle celebrazioni ufficiali per il centenario di Renata Tebaldi fatto in collaborazione con l'orchestro Olimpia Clio Gaudenzi e anche la cantante Valentina Mastrangelo che concluderà le giornate del festival domenica 30 ottobre allo sperimentale alle ore 21 mentre il giorno successivo un appendice al festival con lo spettacolo è anch'esso uno spettacolo che omaggia un anniversario i cent'anni di Pasolini il testo che vinse lo scorso anno il premio Conti quella notte all'idroscalo e questa volta l'appuntamento alla chiesa dell'Annunziata è un'edizione molto importante e significativa perché segna i 75 anni di vita dell'associazione e del festival che non a caso è il più antico d'Italia e più qualificato lo dicono lo dimostrano il grande numero oltre 80 di compagnie che hanno presentato le candidature lo dimostra la qualità dei testi che sono stati presentati e lo dimostra anche la organizzazione dell'associazione che per portare avanti un festival concentrato in 15 giorni con 8 rappresentazioni più altri eventi collaterali è un impegno molto importante in occasione della presentazione del 75esimo GAD sono stati annunciati anche i vincitori del premio drammaturgico Antonio Conti 2022 organizzato dal circolo di lettura sulla drammaturgia italiana contemporanea dell'associazione e abbiamo un vincitore della categoria Under 35 che è Virginia Risso una autrice che abita a Cirie Torino che ha vinto con Si sta come di notte sui cavi elettrici i funamboli poi abbiamo per la categoria già rappresentati Barbara Massa di Milano con la presente assenza e per la categoria invece Over 35 abbiamo un primo premio e un secondo premio il primo premio va a Ghernica di Federico Latini un autore di Roma mentre il secondo classificato è Giuseppe della Misericordia di Varese quest'anno gli autori in concorso erano 72 e rappresentavano ben 13 regioni anche uno stato estero il Belgio perché c'è un'attrice italiana che vive a Bruxelles e chiudiamo questa edizione parlando di sport perché questo weekend si è chiusa la stagione del campionato italiano velocità moto 3 con Rossini TV che ha seguito ogni appuntamento del team gradarese MR Racing vediamo come sono andate le gare d'epilogo nel servizio di Paolo Pagnini oggi siamo al circuito di Imola per tutti quanti in realtà si chiama l'autodromo Enzo Dino Ferrari appunto da Imola siamo qua per seguire la tappa conclusiva del campionato italiano velocità al quale partecipa il nostro tra virgolette ma in realtà visto che lo seguiamo da tutto il campionato nostro a tutti gli effetti pilota Matteo Morri Matteo Morri si sta comportando benissimo e oggi si è comportato molto bene e insomma un weekend fantastico del quale vi proponiamo alcune interviste una manciata di secondi dopo l'arrivo c'è proprio il podio in questo momento abbiamo approfittato del fatto di essere venuti a trovare qui a Imola per strappare una battuta qualcosa su questa gara che posso dirlo dall'esterno è andata molto bene si è andata bene poteva andare un po' meglio potevo partire un po' più veloce però comunque ho recuperato posizioni e ho migliorato il tempo quindi fiducia per domani al di là delle posizioni che comunque sono di tutto rilievo ricordiamo che appunto hai fatto un sesto posto partendo dalla nona posizione e tra l'altro nelle prime curve ti abbiamo visto passare decimo per cui sono molti i sorpassi che sei riuscito a fare ci segnalano che insomma hai dato anche una bella botta al tuo tempo si da venerdì mattina è andato giù di due secondi e anche dall'anno scorso perché il tempo di ieri mattina era praticamente lo stesso e quindi bene abbiamo trepidato parecchio raccontaci il sorpasso che ti è piaciuto di più quello la rivazza che mi ha passato un pilota alla variante alta e gli sono entrato dentro prima della staccata e ha dovuto visto che ha rialzato molto veloce la moto anche dal capotecnico Davide Goretti una battuta su questa prima gara che è andata insomma direi particolarmente bene sì direi di sì oggi Matteo ha disputato una gara ottima la sua posizione di partenza non era male ma poi ha tenuto un buon ritmo sempre sul 59 e alla fine è anche complice un paio di contatti che ha avuto inizialmente con Abruzzo in alcune situazioni però ha preso un po' di gab iniziale ma poi l'ha recuperato e ha fatto una buonissima gara direi un sorriso sul volto di Massimo Morri team manager Massimo direi che insomma questa prima tappa non è male no? Sì come al solito le prove hanno avuto sempre qualche problemino Q1 bandiera rossa quando stava facendo il miglior tempo il suo miglior tempo nella seconda purtroppo nel momento in cui dovevano fare delle regolazioni non è più ripartita la moto è partita la centralina e quindi anche oggi è dovuto partire il nono non è male ma non è neanche proprio nella posizione per agganciarsi dopodichè come ha detto Davide ha fatto una bella gara ha girato quasi sempre sotto i due e sotto i due qui girano quelle che girano forte quindi siamo abbastanza contenti in gara 2 Matteo dopo un buon avvio si trovava nel gruppo dei primi quando una caduta di due piloti al secondo giro ha costretto la direzione a esporre la bandiera rossa che determina la sospensione della gara una volta ripartiti Matteo si è presto posizionato in ottava posizione che ha migliorato sul finire tagliando il traguardo settimo centrando con il sesto e settimo posto nelle due gare il miglior risultato stagionale nella classifica di campionato il giovane pilota di gradara si posiziona tra i migliori piloti italiani di categoria conquistando un ottimo nono posto finale eccoci arrivati alla fine del nostro telegiornale ma questa sera attenzione rimanete connessi e sintonizzati con noi su canale 80 perché alle 21.20 c'è l'ultima puntata di questa seconda stagione di green tour viaggi nel verde della provincia di Pesaro Urbino questa sera andiamo a Frontino e quindi a collegatevi alle 21.20 ma sappiate che questa puntata la potrete anche vedere nei giorni che vedete scritti qui in questi orari domani invece vi aspetto con la nostra consueta rassegna stampa in diretta alle 7.20 sul canale 80 e anche sui nostri social e poi venerdì un nuovo programma targato Rossini TV si chiama Spazio Z cioè i racconti della generazione Z cioè i racconti degli adolescenti di oggi che andremo a conoscere attraverso gli occhi di un adolescente come loro Letizia che vedete qui è lei la conduttrice di questo programma tutti i venerdì alle ore 19 grazie per averci seguito anche a questa sera chiaramente vi consiglio sempre di seguirci sui nostri social Facebook Instagram e di salvare sul vostro telefono il nostro numero per le segnalazioni 370-366-7210 buona serata grazie a tutti